Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi abbiamo il ritorno di un ospite speciale che si chiama Signorita ed è la nostra bambolina. Oggi parlerò con un leggero soft spoken, quindi questo tono di voce qui, perché sì, perché ho fatto whispering per tantissimi video e ora mi andava a ritirizzare un po' questo tono di voce. Spero vi piaccia. Oggi andrò a fare una semplicissima sessione rilassante. Andrò a spazzolare i capelli. Poi andrò un po' a fare vari massaggi alla cuce, una cosa molto molto semplice. Tu intanto rilassati e goditi questo massaggio rilassato. Prendiamo subito la spazzola. Ho questa spazzola in legno. Invece sentire il legno. subito la spazzola in legno. Andrò a pettinare, spazzolare un po' in legno. e i suoi splendidi e lunghi e lucenti capelli. subito la spazzola in legno. subito la spazzola in legno. Abita all'uja. E la spazzola in legno. E la spazzola in legno. il suono è il gesto dello spazzolare i capelli è uno tra i più rilassanti di sempre perché è molto semplice se avrete letto il mio libro sull'sml probabilmente ci potrete arrivare perché li ho approfondito un po' più l'argomento però è tanto amato perché è facilmente riconducibile a dei momenti della nostra infanzia a dei momenti amorevoli della nostra infanzia ora qui abbiamo spazzolato i capelli andiamo andiamo a lavorare con il primo oggettino allassante e questo è un massaggio a testa che penso si possa trovare come su Amazon ma che di sicuro troverete ad esempio da Tiger e che è l'oggettino che per eccellenza fa venire i brividi cioè proprio si potrebbe chiamare che è privido questo oggetto lo chiamiamo privido se siete arrivati se siete arrivati fin qui scrivete in descrizione scrivete nei commenti la parola la brivido la brivido la brivido la brivido di questo oggetto fa venire tantissimi brevidini dopo lo provo su di me perchè non riesco a resistere sapete tipo le domande se potessi portarti tre oggetti in un'isola deserta quali sarebbero? ma sarei indecisa se portare questo eh e poi tocca anche tutta la fronte qui io come lo vedi andiamo da questa parte e massacciamo cerco di andare proprio anche verso qui finisce il cranio più o meno di andare qui sul collo, all'inizio del collo in cui questo massaggio è sempre effettivo e ogni volta che il brivido scende sulla testa parto certi noia di brevidini da qui che vanno giù 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 verso il collo, la schiena, le spalle ad alcune persone anche verso le brazza o meno prova i brividi in modo diverso ok passiamo alla parte centrale tra l'altro e ancora faccio sia un movimento verticale come questo e cerco anche di fare un movimento circolare in questo modo in questo modo abbiamo già spettinato tutti i capelli povera massaggio molto dolcemente e se vuoi immagina anche te di ricevere questo massaggio se non devi immaginarlo così potrei avere così potrei avere tanti brevidini anche te e adesso andiamo da questa parte andiamo da questa parte con movimenti circolari circolari e poi verticali vado anche un po' più giù in modo da riuscire a fare un massaggio a tu della testa centrati sia su ciò che vedi che su ciò che senti non so se lo stiate notando mi sto rilassando tantissimo anch'io e mi sto anche immaginando delle bomboline ok provo un secondo su di me spero di non spettinarmi troppo spettinarmi troppo ok ci siamo adoro spettinarmi troppo spettinarmi troppo spettinarmi troppo o spettinarmi troppo è l'oggetto più geniale mai inventato e avere brivido in casa È perfetto. È tipo un oggetto zero sforzo di massimo risultato. Adesso facciamo un breve massaggio e poi mi sa che mi dovrò mandarla a buonanotte. Io comunque spero davvero che questo video ti sia piaciuto, che ti abbia rilassato. Se sarà possibile, prima o poi arriverà un video simile, con una modella reale. Purtroppo non è sempre possibile, quindi ci accontentiamo. Anche perché questa modella è abbastanza silegiosa, quindi ci piace. Sto platterando. Ora faccio brevemente dei grattini lungo la linea dei capelli. E dietro le orecchie. Faccio un piccolo massaggio al coltario. Penso proprio. Si è aggiunta l'ora di... Si è aggiunta l'ora di... Io curare... Io curare... Io curare... Io curare... Io curare... Con un po' di... Grattini a noire. una buona 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 notte buona notte buona notte sogni duro buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte Buonassno, c'est il sesso. Buonassno, c'est il sesso. Buonui, gode le notte. Buonanotte, pastiche. Un mega, 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 molto relazante. Que l'espere.